Un'altra villetta rasa al suolo a Licata non si fermano le demolizioni di mobili costruiti senza licenza edilizia e senza la possibilità di essere sanati nella fascia dei 150 metri dalla Battigia in una zona a vincolo di inedificabilità assoluta. Gli operai e i tecnici della ditta Compat, consorzio di Roma incaricata dal comune, hanno demolito un fabbricato grezzo costituito da un piano terra e un primo piano a Poliscia, circa 10 km dal centro abitato. Siccome la zona in questione non è raggiungibile con i mezzi pesanti, gli operai dell'impresa hanno eseguito la demolizione a mano. Questo ovviamente ha comportato un intervento più lungo del solito per abbattere l'immobile in questione. Lo stabile è stato demolito, ora l'impresa si sta occupando di portare via i detriti che saranno conferiti a seconda della tipologia nelle discariche autorizzate che si trovano a Licata e a Favara. Nei prossimi giorni saranno avviate nuove demolizioni in altre zone della costa ricatese. Si parte da un villino realizzato a Canticaglione nei pressi della Statale 115 per Gela. Sono in tutto sei i villini da demolire all'interno della fascia dei 150 metri dalla Battigia. Le ingiunzioni alle demolizioni sono state notificate dal Dipartimento Urbanistica agli ex proprietari degli immobili costruiti negli anni lungo la costa ricatese. La maggior parte dei manufatti che verranno demoliti dal consorzio Compat, che ha vinto la terza gara indetta dal comune, si trova nella zona della Rocca, ma ce ne sono altre al Pisciotto, a Torre di Gaffe, alla Playa, a Canticaglione. Agli ex proprietari è stato assegnato un termine per poter demolire autonomamente quanto realizzato senza autorizzazione. Se non lo faranno di propria e spontanea volontà saranno azionate le ruspe della ditta incaricata dal comune e successivamente saranno addebitate le spese sostenute per l'attivazione delle ruspe. Sanzioni che vanno da 4.000 a 20.000 euro. Alcuni ex proprietari hanno già ricevuto l'ok da parte della Procura della Repubblica di Grigento e dall'Ufficio Tecnico del Comune ad abbattere autonomamente, risparmiando così sulle spese di demolizione che sarebbero loro addebitate in caso di intervento delle ruspe comunali.